Uff ragazzi eccomi qui sono tornato oggi tengo le cuffie perché mi pettinano i capelli ma c'è anche un secondo motivo in realtà sto registrando il video non appena ho terminato la sessione di telecronache da casa da D-Max ci hanno dato un iPad ci sono un paio di sistemi che utilizziamo e in questo periodo stiamo registrando Raw, SmackDown e NXT dalle nostre abitazioni allora questo è l'ultimo giorno di isolamento fiduciario quindi da domani teoricamente posso uscire di casa ma credo che non lo farò ok andrò avanti ad ordinare qualche consegna la sera di cibo a ordinare le consegne a casa della spesa dai supermercati e me ne starò bello tranquillo cosa ho avuto in questi giorni ma di sicuro credo niente connesso al covid non ho riscontrato nessuno dei sintomi almeno quelli più diffusi quelli scritti sulle pagine del ministero della salute o spiegati in televisione mi bruciava questa zona qua della testa e intaccava l'orecchio e l'occhio non so come mai probabilmente un'infiammazione di qualcosa ma alla fine sono riuscito a spegnerla a contenerla ok quindi i pochi medicinali che ho appreso e il tanto riposo hanno fatto da pompieri e ora wow sentite qui quanto rugisco ok volevo ringraziarvi perché in tanti mi avete scritto con i più disparati mezzi e sui più diversi social quando uno non sta bene non ha tanta voglia di rispondere o di partecipare quindi se non vi ho dato replica sappiate comunque che ho letto tutto da domani cerco di recuperare qualche messaggio e di dare qualche risposta insomma a chi mi ha contattato in queste settimane qualcuno si è anche offeso di tanto in tanto soprattutto su instagram mi arrivano dei messaggi privati del tipo questa è la mia domanda mezz'ora dopo ah te la tiri non rispondi ai messaggi vai a quel paese anche di peggio dico ma mezz'ora come faccio a scrivervi subito e poi tra l'altro in questo periodo non stavo bene quindi avete delle pretese un pochino strane la notizia del giorno almeno prima di andare in telecronaca è il fidanzamento ufficiale di alexa bliss all'americana il fidanzamento quindi non è una cosa adolescenziale all'italiana che ci si fidanza e poi magari due settimane dopo si cambia idea in america l'engagement il fidanzamento significa promessa di matrimonio io so che molti di voi adorano alexa bliss provano dei sentimenti di travolgente trasporto verso di lei beh ahimè la ragazza sembra destinata a convolare a giuste nozze ma a voi e anche a me rimane pur sempre la fantasia questa non ce la toglierà più nessuno l'altra news di questi giorni è il licenziamento improvviso come un fulmine a ciel sereno di zelina vega e qui è difficile questa faccenda da capire e da analizzare una zelina vega che insieme ad ostentieri ed angel garza ad andrade durante le settimane prominenti a resta almeno era grande protagonista della wwe ora viene licenziata probabilmente all'interno di una diatriba che riguarda anche il suo desiderio di restare su determinati social malgrado l'ostracismo e i dettami della wwe zelina che ha twitch che ha un only fan se non ricordo male e che insomma pare essere andata contro ai desideri della wwe chi ha ragione è difficile dirlo perché quando sei un lottatore lo sei sempre e dovresti esserlo anche a casa preparandoti adeguatamente ai match rilassandoti recuperando dagli infortuni seguendo una giusta dieta visitando costantemente dei centri fisioterapici o avendo un fisioterapista che ti segue insomma devi fare mille cose è chiaro che ora che non ci sono i live event il tuo tempo libero è aumentato però li vai a capire se la wwe era davvero contenta di zelina delle ultime sue settimane degli ultimi suoi mesi oppure no solo un dirigente lo può sapere le hanno dato anche delle chance contro asuka l'hanno provata a lanciare come atleta ne sono usciti dei match decisamente modesti carichi e ricchi di errori da parte di zelina anche se per lei dobbiamo far valere le attenuanti di questo periodo ovvero senza live event appunto non puoi provare niente con il tuo futuro avversario televisivo e non è facile improvvisare da zero quando non c'è un'esperienza pregressa ad ogni modo in un mondo ideale ha ragione l'atleta cioè l'atleta una volta che combatte e che adempie alle richieste della federazione per quello che è il contratto che lega le parti sino che rende contenti i suoi dirigenti restando in ottima efficienza fisica e disputando dei match che piacciono al committente beh l'atleta dovrebbe aver ragione ma il mondo del lavoro non è il mondo ideale e spesso devi accettare dei compromessi che non ti sembrano del tutto corretti o giusti ma sono quelli che ti vengono proposti o mangi quella minestra o salti dalla finestra credo che molti di voi in età lavorativa si siano trovati in situazioni del genere d'altra parte WWE ha deciso di agire in un determinato modo se utilizzi dei social e lì c'è anche da chiedersi una come Zelina avrebbe raggiunto questa popolarità su Twitch se non fosse prima diventata un'atleta della WWE probabilmente la risposta è no senza il megafono mondiale della federazione Zelina sarebbe una delle tante che ci provano ma che magari sono ancora lì che sgomitano senza la WWE che arriva in così tanti paesi non avremmo scoperto chi è Zelina Vega non avremmo apprezzato la sua personalità e non avremmo visto quanto è bello sentirla parlare su questi social o non ci saremmo interessati alle sue fotografie in modalità cosplay quindi chi lo sa però non esiste una verità in questo caso esiste un'opinione che si forma attraverso l'età, l'esperienza e attraverso la propria sensibilità per chiudere questo breve video di ritorno guardate cosa mi è arrivato sono le carte della Tops quelle a prezzo molto ridotto ne ho voluto prendere un pacchetto da 12 sterline le apriamo con calma le Slam Attack Reloaded nelle prossime settimane apriamo anche questa cosa qua mentre durante la convalescenza mi è arrivato anche un pacco che credo contenga dei regali che mi avete inviato dalla mia wishlist su Amazon perché ho notato che sono spariti degli oggetti tra l'altro è anche un pacco bello cicciotto quindi adesso lo apro ci tenevo a farlo a fronte telecamera e poi rimpolperò la wishlist di Amazon perché insomma è andata via tanta roba allora vediamo un po' ci sono dei foglietti Mattia famoso allora grazie Mattia ora che ti sei messo in isolamento preventivo almeno leggi visto che aprirai il pacco in un video se Emanuele Chiarelli sta guardando I've got two words for him Alessa Bliss da Mattia e The Hitman va bene ci sono anche i messaggi a distanza da Mattia The Hitman Mattia famoso a Emanuele Chiarelli abbiamo parlato di Alexa Bliss abbiamo anche il fogliettino eccolo qua lo faccio inquadrare un attimo dalla telecamera ok grazie mille Mattia per i regali che non ho letto durante la quarantena ma leggerò nei giorni a venire e devo dire che mi hai regalato delle cose fichissime veramente fichissime i numeri 1 poi 2 e anche il 3 quindi adesso metterò il 4, il 5, il 6 nella wishlist di Touch di Adachi di Mitsuru Adachi eccolo qua uno dei miei mangaka preferiti è il fumetto di Prendi il mondo e vai cartone animato della mia gioventù che ho adorato di formazione umana con il baseball come sport guida se oggi ho una determinazione una tenacia fuori dal comune è perché me l'ha insegnato questo cartone animato molto molto toccante in diverse scene ecco qua altre tavole Adachi non le riempie di dialoghi le sue storie sono a volte anche considerate banali ma è il ritmo della vita la crescita inesorabile dei giorni la scoperta di te stesso attraverso le relazioni e lo sport che pratichi o che intrecci durante l'adolescenza e che poi segneranno tutto il resto della tua esistenza a me piace molto soprattutto quando tratta questi temi che sono ricorrenti nella sua proposta artistica quindi Mattia grazie perché ho davvero di che leggere nei prossimi giorni e dunque anche a distanza mi fate e mi fai ma mi fate in generale un po' di compagnia bene per oggi ho terminato grazie a tutti per l'ascolto a breve riprenderanno a sbocciare le vecchie rubriche di questo e dell'altro canale delle news anche su Twitch si ritorna a fare dirette lasciatemi organizzare ma ora sono carico quindi lentamente tutto ritornerà a quella che era la precedente normalità la precedente normalità